Sabato 26 novembre, domani saremo tutti quanti in strada, parlamentari, consiglieri regionali del movimento, consiglieri comunali, sindaci, cittadini, attivisti, cammineremo per le strade di Roma per ricordare agli italiani che il 4 dicembre bisogna votare no. I partiti ci stanno togliendo con questa riforma il diritto di votare il Senato e stanno dando l'immunità parlamentare ai loro amici consiglieri regionali e sindaci per salvarli dalla galera. Durante il cammino per la Costituzione che faremo domani portate con voi un simbolo tricolore, una fascia tricolore, un braccialetto tricolore, ognuno di noi deve sentirsi responsabilizzato in questo referendum e nel cambiamento del paese, anche perché questo è un referendum senza quorum e ogni cittadino potrà essere determinante per la vittoria del no. Quindi andiamo a votare e portiamo a votare più persone possibili per far vincere i cittadini che vogliono veramente cambiare questo paese. Grazie a tutti.